Ciao, sono Elisa, mi sposo con Davide il 14 settembre a Chioggia e oggi porto a casa il mio meraviglioso vestito. Sono arrivata a Sposadeste in realtà che arrivavo da un'altra esperienza ed ero molto demoralizzata. Poi dei miei cari amici mi hanno consigliato questo atelier e io sono entrata molto con i piedi, pian pianino e poi in realtà qua ho trovato il mio vestito, il mio meraviglioso vestito che è unico, particolare, non ce ne sono di così belli, è proprio mio e ho trovato delle persone meravigliose, ho vissuto un'esperienza stupenda. Il ringraziamento di cuore più sincero che ci sia va a Sposadeste, a Marilena, a tutto lo staff che sono delle persone che ti capiscono, che entrano nel tuo percorso, lo fanno insieme a te, rimarranno con te ma sono delle persone meravigliose, venite tutti a Sposadeste perché ne vale la pena.